Nel corso della mattinata odierne i carabinieri del gruppo di Torre Annunziato hanno eseguito un'ordinanza di custodia delegatoriale in carcere messa dall'ufficio delle 12 per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli, su richiesta della locale procura della Repubblica, direzione distrettuale antimafia, nei confronti di 19 persone gravemente indiziate a vario titolo di associazione mafiosa, estorsione aggravata, l'ammetodo mafioso, porto e detenzione di armi da sparo, tutti appartenenti ai contrapposti clan Camorri, Sicigionta e quarto sistema, operanti nel territorio di Torre Annunziata. Il provvedimento è stato messo in seguito ad un'articolata attività di indagine coordinata dalla DDA di Napoli e condotta dai carabinieri del nucleo investigativo di Torre Annunziata da maggio 2020 a luglio 2021, avviata all'indomani del tentato omicidio di Carpentiere Giuseppe, ritenuto elemento di spicco del clan e genero del capo del sodalizio detenuto Valentino Gionta, anche lui colpito dall'odierno provvedimento poiché è ritenuto ancora al vertice dell'organizzazione, avvalendosi della collaborazione dei familiari più stretti, tra cui la figlia Teresa, lo stesso Carpentiere e l'omonimo nipote Valentino Gionta. Le indagini hanno attinto elementi apicali del clan Gionta, detto anche dei Valentini, accettandone la capacità di controllo del territorio mediante l'intimidazione mafiosa, l'opprimente rete estorsiva ai danni di attività economiche locali e la capacità di fronteggiare militarmente le fazioni contrapposte, grazie alla disponibilità di armi ed esplosivi. Ed è proprio nello scontro armato tra i clan che è maturato l'agguato a Carpentieri Giuseppe, avvenuto il 6 maggio 2020, per la cui esecuzione risultano raggiunti dai gravi indizi di colpevolezza i fratelli Carillo Pasquale e Luca, entrambi allo stato detenuti, ritenuti promotori del neocostituito clan denominato quarto sistema, con base nel quartiere popolare del parco Penninello, e mossi da sentimenti di mendetta per l'omicidio del loro nonno Scarpa Natale, consumato il 14 giugno 2006 in un agguato eseguito dai sicari del clan Gionta. Grazie a tutti!